La situazione odierna a Lampedusa vede ospitate presto l'Hospot circa 6.000 persone giunte sull'isola con oltre 100 eventi di sbarco nelle ultime 24 ore. Chiaramente la situazione è complessa e come Croce Rossa italiana stiamo continuando a garantire, sebbene con un grande sforzo, i servizi di base alle persone che stiamo assistendo, cercando di dare delle priorità soprattutto per le famiglie e i tantissimi bambini e minori. La macchina dei trasferimenti è fondamentale in questo circolo affinché nella giornata odierna possano essere trasferite quante più persone possibile. Si stima che possono arrivare fino a 1.500. Nel contempo continuiamo a prestare assistenza e a fornire tutti i servizi soprattutto ai più vulnerabili, a coloro che hanno perso anche durante la traversata i propri carichi.